good morning sì anche se adesso qua è luna mi sono svegliato qualche ora fa la tendenza di questi giorni ma lo faccio solo adesso il meteo per il bollettino meteorologico per cose che non dipendono da me ad ogni modo quindi dico che è una mattina certo non mattina ma comunque mattina cioè per me è come se fosse l'ora in cui mi sono svegliato ma ovviamente è chiaro che adesso è luna mister master maestro o semplicemente semplicemente David Lynch it's March 24 2022 and it's Tuesday in Naples a clear afternoon very still right now 60 and 8 farin at around 16 celsius and this means that è quella that day really 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 soft like in these days in this period sì veramente clima primaverile veramente bellissimo clima atmosfera per quanto concerne il video sui pensieri come sempre per chi è interessato lo faccio separato da questo quindi occhio anyway I see and you all just see from the window I think that we have 30 celsius 68 fai, but really important thing guys, come avete appena visto, as you all just see from the window, is that we have, we have today, we have those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Ovviamente l'along the way qui, qualche altra ora essendo già l'una, bene così, trend che è iniziato due giorni fa, speriamo di continuare anche domani, per cui, say this, so from the mythical window with the color of the curtain, sublime oggi, and it's green roller shoes. behind me, on the top, not visible, and in fact, I earned a shot. And finally, from the mythical keyboard, the Amade GX 640, IPG, IPG 625. Have a great day, in all the people who follow the channel reports, un saluto davvero a tutti, nel caso ci vediamo al video pensiero, al video tutto, good day, o domani. un saluto davvero a tutti, nel caso ci vediamo il video, e 아버zie per la fortuna, un saluto davvero a tutti.